Imprese marchigiane al femminile sopra la media nazionale Otto furti in un negozio fanese incastrato al ladro Il centro Viale Trieste intitolato alla memoria di Giuliano Tacchi A Pesaro torna la ruota panoramica attrazionativa da metà marzo Le settimane rossignane si chiudono a tavola con la sfida nazionale fra istituti alberghieri Buonasera a tutti voi amici telespettatori e telespettatrici di Rossini TV ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione di Rossini News Telegiornale di giovedì 7 di marzo che è la vigilia di una festa della donna che già da ieri stiamo analizzando attraverso i suoi molteplici significati Oggi lo facciamo parlando di lavoro e andando ad analizzare quella che è la fotografia dell'imprenditoria femminile nella nostra regione secondo i dati della Camera di Commercio Alle porte dell'8 marzo, festa della donna, la fotografia dell'imprenditoria femminile marchigiana mostra quote rosa superiori alla media del paese soprattutto sotto forma di impresa individuale e settore dei servizi Questo è quanto emerge dai dati della Camera di Commercio delle Marche attraverso il Comitato Imprenditoria Femminile Il tasso di femminilizzazione dell'imprenditoria marchigiana è del 23,2% e rimane più alto rispetto al 22,2% della media italiana Sono 35.480 le imprese femminili registrate nelle Marche al termine del 2023 ovvero 1.200 in meno a distanza di 12 mesi ma è un ridimensionamento in linea con quello della demografia d'impresa nel suo complesso Il tasso di femminilizzazione relativamente più elevato è nella provincia di Macerata meno marcata quella nella provincia di Pesaro che rimane più vicina a valori dell'Emilia Romagna piuttosto che delle Marche L'imprenditoria femminile marchigiana si esprime in larghissima misura attraverso l'esercizio di attività nella forma di impresa individuale e soprattutto nelle altre attività di servizi seguite da sanità e assistenza sociale, istruzione e imprese d'alloggio e ristorazione Festa della donna anche all'insegna della salute da ieri vi abbiamo dato notizie delle diverse visite gratuite fornite dall'azienda sanitaria territoriale oggi parliamo anche di altri importanti momenti divulgativi Non solo mimose ma emancipazione e cultura del benessere va in questa direzione l'impegno di Fisioradi Medical Center in occasione della Festa della Donna un impegno che si traduce nel voler riempire di contributi concreti verso la femminilità una ricorrenza troppo spesso svuotata di significati contributi in ambito sanitario con due appuntamenti in cui parlare apertamente delle problematiche del pavimento pelvico liberandole da un pericoloso tabù di silenzio Noi vogliamo essere vicino con questo evento, con questi eventi che facciamo dove oggi possiamo dire che c'è stata un'emancipazione importante per la donna da un punto di vista generale ma ancora di più anche da un punto di vista medico quindi affrontare delle problematiche, dei tabù che ancora sono presenti nelle donne addirittura dei non mettere alla luce del sole delle problematiche che invece possono migliorare la vita della donna Dopo il sold out del primo appuntamento di ieri sera si replicherà il 25 marzo alle 20.30 presso Fisioradi Medical Center per affrontare temi quali incontinenza, dolori durante i rapporti sessuali e altri disturbi da esaminare attraverso fisioterapia ma soprattutto attraverso la prevenzione La prevenzione ovviamente è uno dei nostri obiettivi anche se ad oggi purtroppo viene sottovalutata è però importante sottolinearne l'importanza riuscire a prevenire l'incidenza di queste problematiche sicuramente potrebbe aiutarci tantissimo ad alzare la qualità di vita e prevenire le eventuali problematiche Sono già aperte le iscrizioni per l'appuntamento gratuito del 25 marzo in cui affrontare temi trasversali ad un'ampia demografia femminile Nel mondo ne soffrono 28 milioni di donne, questo di problematiche in generale sul pavimento pelvico in Italia parliamo di una donna su 4, di queste una donna su 7 soffre di dolore pelvico persistente quindi che perdura da mesi e molto spesso di stampo neurologico che limita tantissimo la qualità di vita della persona Le statistiche che abbiamo di incidenza di queste problematiche sono altamente sottovalutate Questo perché rappresentando questo argomento un tabù nella nostra società molte persone non si rivolgono ancora agli specialisti del settore come ad esempio ginecologi o fisioterapisti Per questo che abbiamo scelto questo periodo proprio per portare alla luce di tutti quello che oggi una donna può avere anche da un punto di vista medico da un punto di vista di miglioramento della propria salute e del proprio benessere con questi tipi di trattamento e soprattutto con la presa di coscienza di cosa ci può essere oggi per aiutare una donna e quindi per noi questa è un'informazione che deve formare le donne e perché più donne sono formate più donne possono poi informare altre donne Tre anni e sei mesi di reclusione, questa la pena inflitta al 31enne di origine trentina con problemi di tossicodipendenza che rapinò la farmacia peserese Mari di via Fratelli Rosselli lo scorso mese di settembre Una domenica incurubò 700 euro minacciando la farmacista con un coltello ma venne arrestato il giorno seguente grazie al riconoscimento del sistema di videosorveglianza L'avvocato ha annunciato ricorso in appello contro una pena ritenuta troppo severa Cronaca che da Pesero ci porta a Fano dove la polizia ha individuato un responsabile di furto dopo che di furti ne erano stati denunciati ben otto in pochi giorni da un locale di vendita e somministrazione bevande Locale in cui ignoti stavano penetrando da giorni forzando una finestra e sottraendo alcolice fondocassa Avviati appostamenti in orario notturno la polizia ha colto sul fatto un individuo che alle 5 di mattina forzava alla finestra irrompeva nel locale e ne usciva con diverse bottiglie L'uomo è stato bloccato, denunciato ed è al vaglio la sua presunta responsabilità in merito ai furti precedenti E lasciamo la cronaca e parliamo del Centro Servizi Educativi Diurno Viale Trieste che da oggi è intitolato alla memoria di Giuliano Tacchi grande educatore scomparso a ottobre 2022 Il Centro Servizi di Viale Trieste dedicato a Giuliano Tacchi Oggi infatti è stata inaugurata una targa che verrà poi affissa nella struttura alle mie spalle dopodiché verrà dedicato anche un murales a colui che è stato il primo coordinatore dell'ambito territoriale sociale 1 Oggi è stata un po' una raccolta di quanto Giuliano abbia impattato a livello personale a livello di storia dei servizi del nostro comune e qui è stata la sua base sicura, la sua base di formazione da cui ha iniziato il suo percorso prima da educatore poi da coordinatore poi è passato a fare il dirigente e poi il primo coordinatore d'ambito del nostro territorio ma ha sempre mantenuto il legame e il rapporto con questo servizio e con le persone che frequentano questo servizio Quindi oggi abbiamo voluto da un lato rendere omaggio a lui ma in realtà rendere omaggio diciamo anche al nostro percorso e ai legami che abbiamo anche perché oggi ci siamo tutti resi conto che rispetto alle sfide, al nostro modo di lavorare comunque abbiamo il segno della relazione, degli insegnamenti che abbiamo avuto da Giuliano sono tutt'oggi molto vivi e attivi Un legame è quello di Giuliano Tacchi con l'impegno per il sociale e l'amministrazione di Pesaro che ha origine da un patto stretto tra il terzo settore ed amministratori È stato un innovatore e ha dato un modello che oggi è il modello pesarese di sviluppo del sociale territoriale e quindi era giusto ricordarlo perché ha fondato le basi di quello che poi è il modello di oggi ma sarà anche il modello del futuro Un momento di ricordo, di emozione e anche di commozione è una parola importante utilizzata oggi durante gli interventi che ha visto la presenza non soltanto dei suoi ragazzi ma anche della sua famiglia Il ricordo che ho di lui è che io sono figlio unico entrando qui dentro vedevo mio padre stare con altri ragazzi volergli un bene incredibile condividere con loro tutto quanto e vedere questo amore condiviso mi ha sempre dato è stata un'enorme lezione e ho in mente il suo sorriso in qualsiasi stanza, in qualsiasi momento della giornata qui lui stava bene Lutto nello sport pesarese è morto ieri all'età di 69 anni Ghiruel, punto di riferimento del judo pesarese per generazioni Cinturani era sesto dan e già atleta nonché arbitro di livello internazionale A piangerlo soprattutto il giù di Fazzi Club Pesaro di cui Ruel è stato la vera anima Ruel era di origine belga e si è spento dopo mesi di malattia Ed ora parliamo di lavori pubblici lo facciamo andando a Gabicce Mare in cui si sta rifacendo radicalmente il look del lungomare grazie a investimenti della regione Marche che ci vengono illustrati dall'assessore Francesco Baldelli Un progetto che mira la qualità la qualità urbanistica all'interno delle nostre città la qualità architettonica la qualità della natura che esprime anche Gabicce che è la nostra porta sul mondo perché il turismo che entra da nord attraversa il San Bartolo proprio attraverso Gabicce La regione non poteva essere indifferente a questo valore aggiunto per la regione Marche da un punto di vista turistico e ha finanziato con circa 1.500.000 euro a quali si aggiunge una contribuzione dell'amministrazione locale questo nuovo accesso alle spiagge di Gabicce ma soprattutto la zona ricettiva turistica con un ascensore panoramico che si affaccia sul mare Un investimento importante per un territorio dove il lungomare è la fondamenta sono le mattonelle fondanti di questo luogo Spiagge bellissime, quelle donate dal cielo a questo territorio e noi le dobbiamo sfruttare al massimo rispettandole è quello che stiamo facendo a Gabicce, è quello che facciamo sul San Bartolo è quello che cerchiamo di fare in tutte le spiagge marchigiane in un territorio come quello della provincia di Pesaro Urbino che ha trainato il turismo anche nel 2023 con i dati di Pesaro e auspichiamo ancora di più quest'anno con Pesaro, capitale italiana della cultura di aumentare questi dati, non solo italiani ma anche stranieri e poi di destagionalizzare perché questi territori sono belli non solo d'estate ma durante tutto l'anno Dal lungomare di Gabicce passiamo a quello di Pesaro che avrà di nuovo la sua ruota panoramica in piazzale della libertà a pochi metri dalla palla di Pomodoro La giostra di 35 metri gestita dalla società Parisi si intrattenne in città fra luglio e lo scorso novembre ma nel 2024 torna già in anticipo allungando anche la sua permanenza perché le opere di installazione cominceranno già martedì 12 marzo per concludersi il 16 di marzo e rendere la ruota attiva già appunto prima della festività di Pasqua E si è conclusa oggi a tavola la lunga maratona delle settimane rossignane una conclusione all'insegna della cucina del verbo rossignano con il concorso nazionale Rossini Gran Gourmet che ha visto in sfida 5 istituti alberghieri d'Italia attorno alla tavola ai fornelli del Santa Marta di Pesaro Vediamo com'è andata Le settimane rossignane nell'anno di Pesaro, capitale della cultura si sono concluse oggi all'istituto alberghiero Santa Marta con le sfide finali del concorso nazionale Giochino Rossini Gran Gourmet ideato per diffondere il verbo della cucina rossignana Cinque istituti alberghieri finalisti si sono sfidati e il piatto vincitore, secondo la giuria, è stato quello proposto dall'istituto De Carolis di Spoleto che ha proposto i tortelli in crescendo abbinati a un'alto bella doc 2022 dei Colli Maceratesi e all'opera rossignana La Gazzalatra È una giornata per noi memorabile perché appunto tutto l'istituto è concentrato su questo evento sì, i ragazzi che per esempio hanno in qualche modo contribuito all'organizzazione e i professori soprattutto perché hanno curato tutti gli aspetti per mettere nelle condizioni migliori le cinque scuole che partecipano alla fase finale I tortelli in crescendo della scuola Spoletina hanno avuto la meglio sugli altri istituti alberghieri finalisti di Riccione Senigaglia, Pordenone e la Palermitana Carini Allora, il piatto che abbiamo presentato sono i tortelli in crescendo questi tortelli hanno la caratteristica di prendere spunto dal crescendo rossiniano infatti li troviamo di tre grandezze diverse dal più piccolo che sta a sinistra al più grande a destra con tre sapori diversi il primo soltanto filetto di manzo il secondo filetto di manzo è tartufo, il terzo filetto di manzo è tartufo e foie gras sopra troviamo gli stessi ingredienti che troviamo all'interno accompagnato il tutto da una demi-glace servita con un cucchiaio d'argento riprendendo sempre il brano che è la gazzaladra proprio per le posate che sono state rubate all'interno del brano e tutto poggiato su un pentagramma di salsa di piselli e accompagnato con delle gocce di salsa di carote 14 istituti che hanno aderito alla tutta Italia e anche l'istituto ospite di Sarajevo fuori concorso ma che ha presentato una interpretazione veramente originale dello spirito rossiniano a due secoli di distanza dal suo racconto principale ed è lo spirito di questo concorso cioè a partire un paniere di prodotti che i rossini consumava, amava, conosceva, raccontava e per farne piatti secondo il gusto di oggi antipasti, primi, secondi o dessert che avessero anche la capacità però di entrare nelle tavole di oggi in particolare quelle dei ristoranti importante come azione in sé perché uno studio attorno alla produzione di rossini con un ragionamento anche sull'abbinamento dei vini in base al suo gusto ma anche in base al territorio in particolare marchigiano l'abbinamento rispetto alle musiche perché naturalmente il cibo ispirava rossini nella musica la musica ispirava rossini e anche il pubblico nell'ascoltare le sue opere e soprattutto la possibilità per decine, a questo punto centinaia negli anni perché siamo alla quarta edizione di giovani studenti, di istituti alberghieri, turistici di cimentarsi con un grande messaggio che era quello di rossini gourmet ma anche un gran contemporaneo in cui attraverso le celebrazioni di rossini attraverso anche la capitale 2024 da Pesaro con l'autenticità di un concorso, con una giuria veramente importante vogliamo appunto rilanzare questo messaggio e farne patrimonio d'Italia ed Europa E dall'alberghiero ci spostiamo all'Alexander Museum Palace Hotel che ha ospitato un nuovo appuntamento divulgativo dell'Associazione Cultura Identità Tornano gli appuntamenti divulgativi di Cultura Identità Mercoledì sera all'Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro l'Associazione ha acceso il riflettore su un tema teologico dal titolo Sottoponzo Pilato attraverso la relazione di Massimo Baronciani è soprattutto una conferenza sul processo legale e storico nei confronti di Gesù dove naturalmente Ponzio Pilato che sarà presentato anche da Stefania Ciaffoncini avrà la sua importanza perché è stato un processo spartiacque nel mondo occidentale ma anche planetario tra ciò che è stato prima e ciò che sarebbe stato dopo si agitano i concetti di potere temporale, di religiosità, di concetto anche di verità Gesù Cristo è uno sconosciuto ai molti, ai più, quasi a tutti fino a quel giorno da quel giorno e pochi giorni prima avviene qualcosa di fondamentale Ponzio Pilato nasce quattro anni fa per volontà di il modello il quale ci ha riunito e ci dice abbiamo trovato un'associazione che fa per tutti l'associazione di Edoardo Silvio Slabini e abbiamo subito iniziato a lavorare su dei progetti poi naturalmente ci ha bloccato il Covid e quant'altro però stiamo già lavorando abbastanza bene grazie anche alla forza di volontà di un investito abbastanza forte e deciso Lo scopo proprio del fondatore Silvio Slabini è nostro è proprio quello di esplorare il territorio e valorizzare completamente le bellezze ma non solo la storia, il patrimonio che noi abbiamo, il patrimonio di monumenti, di castelli, di torri di dipinti, di autori, di scrittori che sono appartenenti a questi territori periferici e che sono magari sconosciuti Progetti futuri abbiamo in cantiere nel mese di aprile un bellissimo incontro con Silvio Bozzi che ci spiegherà la sua teoria sulla fragellazione di Piero Raffanceschi è molto interessante in quanto Silvia Ronchei che è la più grande studiosa del quadro attuale di Piero Raffanceschi ha definito la versione di Silvio Bozzi quella definitiva Concludiamo il nostro telegiornale con lo sport ieri sera netta vittoria per la Megabox Vallefoglia per 3-7 a 0 in casa delle Bisonte Firenze un successo che porta la Megabox a un passo dalla qualificazione matematica ai play-off manca infatti solo un punto per il verdetto aritmetico la Megabox sabato sera sarà a Pesaro alle 20.30 contro le super campionesse di Conegliano un pala Megabox che 24 ore prima ospiterà la sfida dell'Ital Service Pesaro con Genzano prevista infatti domani alle 20.30 si conclude qui il nostro spazio informativo di Rossini News ma restate sul canale 80 perché già dalle 20 potrete vedere un interessante speciale dedicato ai 40 anni di storia dell'azienda Oikos uno speciale realizzato a San Patrignano per celebrare i quattro decenni di questa azienda che si dedica alla pittura sostenibile e poi la prima serata è dedicata allo sport come ogni giovedì l'appuntamento è quello col basket con insieme a Canestro e il nostro focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che arriva dopo la grande vittoria sulla Germani Brescia la nostra Elisabetta Ferri ne parlerà in compagnia del vice allenatore della VL Giacomo Baioni e del giornalista Mirko Faccenda oltre come sempre alla possibilità di interazione in diretta con voi telespettatori al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 altra diretta quella consueta del mattino con Buongiorno Rossini domani venerdì 8 marzo ci sarò io a tenervi compagnia con le notizie proposte dai quotidiani locali l'appuntamento come sempre è in diretta dalle 7.20 e dunque vi aspetto domattina per Buongiorno Rossini si conclude invece qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata